Dopo l'alluvione dello scorso maggio sono in arrivo agevolazioni su alcuni pagamenti per i cittadini, essendo il comune di Pesaro tra le realtà inserite nello stato d'emergenza per i danni ingenti subiti da maltempo. Come pervede il decreto legge alluvione entrato in vigore il 2 giugno, sono sospese infatti fino al 31 agosto le scadenze dei versamenti tributari, di contributi previdenziali assistenziali, premi assicurativi obbligatori, ritenute alla fonte delle addizionali comunali regionale IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, cartelle esattoriali, adempimenti tributari e adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, scadenze procedimenti e termini amministrativi. Come si legge nel decreto tutti i versamenti sospesi dovranno essere pagati entro il 20 novembre, mentre tutti i termini per gli adempimenti sospesi riprenderanno la loro decorrenza dal 31 agosto. Il decreto alluvioni prevede anche il differimento al 31 dicembre del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari situate nei territori interessati ai fini del bonus 110%. Si tratta di una modifica finalizzata a agevolare gli interventi sugli edifici danneggiati dalle recenti alluvioni che permette quindi per il 2023 di poter beneficiare del super bonus nella misura del 110% in luogo di quella prevista per la generalità dei contribuenti del 90%. Intanto proprio oggi a Palazzo Chigi il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini sono stati in audizione al governo assieme ai rappresentanti istituzionali dei territori romagnoli colpiti dall'alluvione. Governo che ha mostrato aperture confortanti nell'ampliare lo stato d'emergenza oltre i sette comuni pesaresi fin cui inseriti sia di intervenire in favore degli stanziamenti per strade e territori vittime di frane e danneggiamenti.